Mi chiamo Dulalgo, ho 28 anni, vengo dal Bangladesh. Sono venuto in Italia otto anni fa. Volevo rispondere alla domanda di papà Francesco con la mia storia. Quando sono venuto in Italia otto anni fa, io vendevo facilmente accendini e un semaforo si chiama via Cristoforo Colombo. Una sera faceva molto freddo, non aveva vestiti pesanti, anche cibo sufficiente. Io ho incontrato un prete. Questo prete si chiama Padre Don Alexandro. Quando io ho incontrato a lui, prima io ho fatto una domanda inglese. Padre, tu sei cristiano, per favore aiutami. Un giorno lui ha accompagnato il suo amico Marco Ropoli. Marco Ropoli è presidente della Copertiva Impresa Sociale Sofia. Adesso io ho diventato socio di Copertiva Impresa Sociale Sofia. Io sono protagonista di un libro. Il mio libro è un progetto nelle scuole, raccontare la mia storia con gli studenti. Questo anno, 2300 studenti lettono il mio libro. Loro hanno fatto la domanda, io ho risposto. Ultimo 30 minuti, io ho presentato geografia e storia del mio paese. Il mio libro, che cosa risponde? Il mio libro è un ponte, relazione tra immigrati e italiani. Io posso imparare con loro, anche loro possono imparare con me.